In un momento in cui in Italia c'è un dibattito aperto su quello che significa valorizzare e tutelare i beni archeologici, a Palazzo Valentini è stato presentato Capitello d'Oro, il Festival Internazionale del Cinema Archeologico, in programma dal 27 al 29 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il film è un linguaggio che può attrarre anche un pubblico non scontato, che può attraverso questi documentari riscoprire il senso e la ricchezza di un patrimonio molto importante. Giunta alla sua quarta edizione, promossa anche dalla provincia di Roma, questa manifestazione è senz'altro un modo diverso per far apprezzare il grande patrimonio archeologico di cui il nostro territorio è ricco. Crediamo sia importante fare in modo che anche le giovani generazioni si avvicinino a questo straordinario mestiere, anche quello dell'archeologia e che si sensibilizzino rispetto a quella che è una grande risorsa del nostro paese, su cui investire anche per rispondere all'esigenza della crisi.